Come sapete il lavoro di pedonalizzazione qui a Roma e quindi il lavoro riguardante il portale e la mobilità sostenibile a Roma e quindi rendere Roma una fietà che sia percorribile anche a piedi continua. Ecco, abbiamo deliberato in giunta la volontà di pedonalizzare questa parte. Qui a Larguagnesi siamo sulla terrazza del Colosseo, potete vedere come questo tratto sia molto transitato dai turisti ma come al momento però ci siano molte macchine parcheggiate proprio in quello che dovrebbe essere la balconata sul Colosseo. Per questo motivo abbiamo deciso di pedonalizzare quest'area molto preziosa della nostra città che appunto nei prossimi mesi diventerà fruibile da pedoni e biciclette senza l'intralcio dell'automobile senza l'intralcio anche visivo dell'automobile che come potete vedere alle mie spalle è praticamente la vista del Colosseo oscurata dell'automobile. Quindi con questa misura vogliamo eliminare il traffico di transito qui su Larguagnesi e vogliamo eliminare completamente le auto che sono attualmente collocate proprio su quello che dovrebbe essere il balcone verso il Colosseo. Quest'area poi ovviamente è già servita al trasporto pubblico, c'è la fermata della metropolitana quindi veramente mancava un ultimo tassello fondamentale per renderla veramente vivibile per i cittadini. Vogliamo assolutamente che questa parte della città, una parte che ha un'alta valenza turistica ma anche per chi vuole godere delle bellezze di Roma debba essere tutelata. Non vogliamo che quest'area una volta pedonalizzata diventi terra di nessuno quindi ci sarà una forte cooperazione con la polizia locale, con l'assessorato al commercio e al turismo ovviamente per combattere l'abusivismo, per combattere i venditori abusivi che ovviamente sono una piaga che non possiamo assolutamente tolerare. Quindi è un intervento che si inseresce perfettamente nella nostra area di mobilità sostenibile quindi pedonalità e in questo caso anche agganciata al concetto di valorizziamo il nostro patrimonio culturale qui a disposizione in città.